La costipazione è causata esattamente da cibi devitalizzati e cotti, privi di fibre e di cellulosa, di enzimi e di micronutrimenti, privi di sodio naturale, che si trova nel crescione, nel sedano, nel carciofo, nella rucola, e da un eccesso di cloruro di sodio e cloruro di magnesio, inorganici, quindi dall'insulto degli integratori, signori miei. Perché quando si dice il sale fa male, anche gli integratori sono sale, invece il sale giusto è quello che sta organicato nei cibi crudi, tutto lì. Più stiamo col prosciutto, col grana, col vino, con la birra, col tè, col caffè, col sale, lo zucchero, il farmaco, il vaccino, le spezie, il tabacco, e più facciamo giri di walzer, più andiamo a braccetto col cancro. Ricordatevi una cosa, abbiamo un sangue che ci permette, c'è una percentuale di intossicazione che il corpo ammette, non fa scatare la famosa luce, la famosa spia rossa, no? Ecco, quindi entro quei limiti lì si può fare qualche, ed è per quello quando dico tendenzialmente crudista, quindi qualcosa mettiamo, il pane che voi mangiate col panino sarebbe da evitare, ma insomma, se non, se riuscite ad assorbirlo e non c'è un visibile effetto malattia, va bene, insomma, mi trovo un po' quasi imbarazzato a parlare di Gesù. Però mi è capitato tra le mani quel famoso Vangelo Esseno che sta della pace, il cui manoscritto aramaico del III secolo sta depositato nei musei vaticani, praticamente. La luce dei vostri occhi, l'udito dei vostri orecchi, sono nati dai colori e dai suoni di vostra madre natura, di vostra madre terra, che vi avvolge come le onde del mare avvolgono i pesci. Voi siete figli di madre terra, di madre natura, e siete un tutt'uno con essa. Lei è in voi e voi siete in lei. Da lei voi siete nati, in lei vivrete e a lei ritornerete di nuovo. Osservate dunque le sue leggi, perché nessuno può vivere a lungo né essere felice se non onora la sua madre terra e rispetta le sue leggi. Chi rispetterà le leggi di madre natura non sarà da lei abbandonato. Essa gli guarirà, gli guarirà tutte le ferite e non si ammalerà mai. Gli darà lunga vita, lo proteggerà contro tutte le afflizioni, dal fuoco, dall'acqua, dai serpenti velenosi. Non cercate le leggi nelle vostre sacre scritture, perché la legge è vita, mentre le scritture sono morte. La legge la trovate nell'erba, tra gli alberi, nel fiume, nelle montagne, tra gli uccelli che volano nel cielo, tra i pesci che nuotano nel mare, la verità cercatela soprattutto in voi stessi. Ritiratevi e digiunate. Lasciate che l'angelo dell'aria abbracci tutto il vostro corpo. Respirate a lungo e profondamente, perché esso entra in voi e allontani tutte le impurità che lo contaminano internamente ed esternamente. Dopo l'angelo dell'aria, cercate l'angelo dell'acqua. Togliete abiti e scarpe e immergetevi nelle sue accoglienti braccia, e lui allontanerà tutte le impurità. Poi cercate l'angelo della luce solare, in modo che esso entri in voi e allontani le cose negative che vi contaminano. Gli angeli dell'aria, dell'acqua e della luce sono fratelli. Lasciate che vi abbraccino ogni giorno e dimorino in voi per tutto il tempo del digiuno. Affondate i vostri piedi nel fango, in modo che l'angelo della terra possa tirare fuori dalle vostre ossa tutte le impurità e le malattie. Onora il Padre Creatore e la Madre Terra e rispetta i loro comandamenti affinché tutti i tuoi giorni siano lunghi sulla terra. Tu non ucciderai, perché la vita è data a tutti da Dio e ciò che Dio ha dato l'uomo non può togliere. Tutto ciò che vive viene da una sola madre, perciò colui che uccide, uccide il suo fratello. E da lui la madre si allontanerà e lo priverà del suo seno vivificante. I suoi angeli si allontaneranno da lui e Satana prenderà dimora del suo corpo. La carne degli animali uccisi diventerà nel suo corpo la sua stessa tomba. Chi uccide, uccide se stesso. E chiunque mangia carne di animali uccisi mangia il corpo della morte. Ogni goccia di sangue sarà goccia di veleno. Ogni respiro sarà fettore. E ogni cellula sarà putredine. Le ossa saranno gesso, gli occhi saranno scaglie e gli orecchi saranno cera. La morte degli animali diventerà la sua morte. Non uccidete, né mangiate la carne delle vostre prede se non volete diventare schiavi di Satana. Quello è il sentiero della sofferenza e conduce alla morte. Vi ho dato ogni erba che reca seme e ogni albero che reca frutto. Questo sarà il vostro nutrimento. Io vi chiederò conto di tutti gli animali uccisi. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, le tue forze e la tua anima. Questo è il più grande dei comandamenti. Il secondo comandamento è simile al primo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Non ci sono altri comandamenti. Questi sono i più grandi comandamenti. E se l'animale feroce attacca mio fratello? Uno obiettò a Gesù Cristo. L'uomo è più dell'animale ed è giusto difenderlo da qualsiasi attacco. Ma colui che uccide un animale senza motivo, senza essere attaccato per il solo piacere di uccidere, o per la sua pelle, o per le sue zanne, o per la sua carne, malvagio è ciò che fa perché trasforma se stesso in animale feroce. Non uccidete né uomini né animali. Adesso la parte più importante di questo documento, state attenti, spizzate, aprite un po' le orecchie. Dice Gesù, non uccidete né uomini né animali, né il cibo che va nella vostra bocca. Questo mi ha sorpreso. Perché se vi nutrite di cibi vivi, questi vi vivificheranno, ma se uccidete il vostro cibo, il cibo morto vi ucciderà, perché la vita viene dalla vita e dalla morte viene sempre la morte. Tutto ciò che uccide, uccide anche il vostro corpo. Tutto ciò che uccide il vostro corpo, uccide anche la vostra anima. E il vostro corpo diventa ciò che mangiate, come la vostra anima diventa ciò che pensate. Questo discorso sul cibo che uccide, cioè che non bisogna uccidere, il cibo morto, è una anticipazione del crudismo degli enzimi famosi. Quindi senza conoscere gli enzimi sapevano già la verità sta gente. La caratteristica pregiata e peculiare dell'uomo è la coscienza e la capacità evolutiva. Noi è vero che abbiamo le spalle di tutto, abbiamo Caino, abbiamo Attila, abbiamo i barbari, gli ostrogoti, i vandali, i lanzichenecchi, gli stupratori, i papi borgia, i papi inquisitori, i torturatori, abbiamo i mafiosi e i sicari. Però abbiamo anche Gesù Cristo, Pitagora, Ippocrate, Galeno, Talete, Buddha, Zoroastro, Confucio, San Francesco, Dante, Leonardo, eccetera. Dobbiamo attingere e pescare tra gli eroi e tra i saggi, non certo tra i lazzaroni e i farisei. Ho concluso. Grazie. Grazie.